Carlo Urbinati, presidente della cooperativa New Horizon. Carlo, oggi sei diventato membro del CDA della Formica. Diciamo che, a parte la personale amicizia che ho con Pietro, con Hermes, con quale lavoriamo all'interno del consorzio da tanto tempo, le nostre cooperative hanno un percorso di diversi anni di vicinanza. L'esperienza del consorzio via Portogallo, l'esperienza dentro il consorzio sociale romagnolo, sicuramente l'appartenenza alla stessa associazione co-cooperative ci hanno in questi anni avvicinato molto, in progetti, idee, quindi non è che eravamo distanti prima. Oggi, alla luce probabilmente di scommesse future, abbiamo insieme deciso di fare un passo uno dentro la cooperativa dell'altro per vedere se ci sono possibilità, magari in un medio-lungo periodo, di arrivare anche a percorsi nuovi, diversi, visto comunque le sfide che dovremmo affrontare come cooperative sociali in un contesto completamente nuovo. Grazie a tutti.